Noi abbiamo previsto per i prossimi tre anni una manovra espansiva che mette in campo un miliardo di euro di investimenti nei prossimi tre anni tra risorse regionali e tutto quello che mettiamo a cofinanziamento attraendo gli investimenti. Oggi abbiamo previsto e presentato 36 milioni di euro nel prossimo triennio per sgravare, tagliare fino al 50% dell'IRAP per le piccolissime e le piccole imprese della montagna e chi si insedia per la prima volta per tre anni non pagherà proprio l'IRAP, noi poi tanti investimenti, edilizia scolastica, il di sesto eccetera. L'appello che faccio al governo è che non blocchi le infrastrutture perché sarebbe un danno drammatico per l'Emilia-Romagna certamente ma anche per il paese. Puntiamo su togliere addirittura un po' di tasse alle famiglie e alle imprese, garantiamo per la sanità investimenti importanti che abbiamo presentato in questi giorni. Voglio dire che aumenteremo il prossimo anno di un altro migliaio i lavoratori nella sanità pubblica di questa regione, infermieri, medici, personale sanitario e tutti quanti, confermo, continueranno come negli ultimi anni stati, tutti quanti ad avere un contratto a tempo indeterminato.